Dottoressa Mariscotti, che cosa è cambiato in questi anni per quanto concerne la diagnostica senologica? Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un'evoluzione della diagnostica senologica, soprattutto in ambito di mammografia. Siamo passati dalla mammografia analogica, che sono delle immagini statiche su pellicola, alla mammografia digitale, immagini con supporto elettronico. Per quanto riguarda le ecografie, sono stati introdotti degli ecografi tridimensionali, che non sono più operatori dipendenti. E per quanto riguarda la caratterizzazione delle lesioni, sono state introdotte delle agobiopsie, VAB, sottoguida stereotassica, che permettono un prelievo più importante di materiale per fornire una diagnosi più precisa per i nostri anatomi patologi.